Ed eccoci qua cari amici, buongiorno e buon martedì 7 di giugno, oggi va così, oggi siamo partiti con un grande inno alla vita, amo la vita, è giusto che sia così ragazzi e oggi ho deciso di cantarvele di santa ragione, eh sì perché ogni tanto mi sposterò qui a fianco, nello studio a fianco per cantarvi qualche canzone, dai stamattina ho proprio voglia di cantare qualcosa di direttamente, live come si suol dire, come state? Tutto bene? Allora do il benvenuto agli amici su Nima Radio TV, mandate i vostri messaggi così li leggiamo insieme in sovraimpressione, salutiamo tutte le radio, FM, web e anche gli amici della Toscana con Rete Mia, mi raccomando seguiteci e fate le vostre dediche e richieste, oggi non ci sono collegamenti, pertanto sono tutto vostro, ok? Mi raccomando e andiamo subito in musica con una bella canzone dell'orchestra italiana Bagutti, arriva l'amore, si nasconde eccola qua. Ed eccoci qua cari amici dallo studio 2, sono pronto come potete vedere, la regia qui alla mia destra e l'orchestra, praticamente il lettore delle base qui alla mia sinistra, quello che utilizzavo poi durante gli aperitivi musicali della domenica, se vi ricordate, e sono pronto per cantarvi una canzone. Che cosa ho scelto? Ho scelto una canzone di Luca Bergamini, so che piace tanto all'amica Grigio Perlas, non so se ancora l'ascolto perché da qua non vedo i messaggi, tra poco poi torno in postazione principale per poterli leggere e intanto vi voglio dedicare questa canzone, l'inverno se ne va. E beh direi proprio che se n'è andato, con questa bella temperatura, tanti amici sono al mare, qualcuno sta già scrivendo che ritorna, ma qualcuno sta andando proprio al mare, come lo faremo noi dal 19 di giugno in quei della Basilicata. Siamo pronti? L'inverno se ne va! Dedicatissima a tutti voi, l'inverno se ne va, in modo particolare all'amica Grigio Perla, che so che a lei piace tanto questo artista. Andiamo a ricordarvi un appuntamento, ragazzi, lo facciamo con questa slide perché sabato, sabato 11 di giugno, apre i battenti la pista liscio, la pista della musica da ballo del River di Pontetaro, mentre invece le altre piste hanno inaugurato già dal 20 di maggio, ma questo sabato 11 giugno arriverà una grande inaugurazione con Omar Codazzi. Vi ricordo che il River lo trovate a Pontetaro di Parma e ci andiamo ad ascoltare una bella canzone con un videoclip, poi dopo torno nello studio principale perché così cominciamo a leggere i vostri messaggi. Siete pronti? Se fosse reale. A chi la dedichiamo, Luca, questa, alla nostra nipotina, Giorgia, eccola qua. Bella, 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 sempre bella questa canzone. Andiamo, cominciamo a leggere un messaggio che è arrivato su un'altra chat, non su quella principale della diretta Animaral TV, è l'amica Ilvira Dipinto da Gatteo Mar che scrive, buongiorno Nicola, buona musica a tutti, la vacanza sta per finire. Ebbè, è soltanto quattro giorni, ma ovviamente poi giovedì noi ci troveremo in quei dica del giro pizza, così ci divertiremo insieme. Buongiorno fratellone, sono molto contento di vederti, è il nostro Luca che per primo manda sempre il messaggio, un altro che se è andato al mare è il nostro Rodolfo Rinieri. Buongiorno Nicola, buongiorno a tutti, qualche giorno al mare non fa mai male, un saluto da San Mauro Mare, dovresti essere vicino a Gatteo, facci un salto, dai che così ti godi un pezzo della settimana del liscio. Monica Gelati, la nostra Coccò, buongiorno Nicola, felice martedì a tutti, felice anche a te e buon lavoro cara. Dalla provincia di Alessandria arriva Maria Angela che dice buon martedì, Nicola e a tutti voi telespettatori, una canzone di Davide Montali, grazie, ti accontento. Sì Luca, ok, per la dedicata alla nostra nipote Giorgia, per la grigio mi dice buongiorno Nicola, oggi da Macerata c'è un vento fastidioso al mare, vola tutto, buon ascolto a tutti dell'Aivodierno col cuore. Hai sentito che ti ho cantato l'inverno se ne va di Luca Bergamini? Eri già presente o ti sei collegata solo in questo momento? Fammi sapere, dai. Bene, andiamo avanti ragazzi, io sono pronto con la dedica per la nostra amica Maria Angela Meri da Alessandria. Quando, 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 cumbia italiana nel blu dipinto di blu, il nostro Davide Montali. E voilà, questo era un bellissimo Mildi, lo dice anche la nostra Maria Angela che dice bellissimo Mildi, grazie Nicola. Felice e caldo, ma no, felice e caldo martedì a tutti, a te Nicola e a tutti gli amici del Niman Show, grazie cara Fiorenza. E poi Perla mi dice Nicola hai Marco il Clown? Certo, certo, ho già tirato fuori una canzone, spero che ti piaccia. Hai sentito la canzone per metà di Bergamini, mannaggia, è stupenda, piace molto anche a me questa canzone e infatti la faccio anche durante la serata, così la ballano al ritmo di moderato. Ragazzi ho una novità, una bella canzone, l'ho vista proprio ieri sera, ho voluto scaricarla e ce la andiamo ad ascoltare, una canzone dal titolo Balliamo, che la dice tutta perché siamo nel settore della musica da ballo, Pietro Galassi e Luca Frencia, non lo conosco quest'altro artista, ma ce l'ascoltiamo volentieri, eccolo qua. In viaggio con Nima ti porta in Basilicata, dal 19 al 26 giugno, presso i giardini d'Oriente Resort di Nova Siri, Matera. Viaggio in Pullman Gran Turismo, trattamento in pensione completa con bevante e pasti, serate danzanti con ospiti, 680 euro a persona, info e prenotazioni Agenzia Viaggi Portofranco 0522 9020 54 9020 19 oppure 0521 06 14 12. Ehi, non hai ancora prenotato? Il camping Le Fonti è situato nel cuore dell'Appennino Reggiano, a mille metri sul livello del mare. È un'ottima base per escursionisti, oltre che un luogo di riposo sereno e tranquillo tra la natura incontaminata. Il campeggio gode di una vastissima area per camper e tende, oltre che tanti accoglienti bungalow. A vostra disposizione anche un centro benessere con idromassaggio, piscina, grotta del sale, con vero sale dell'Himalaya e bagno turco. Durante tutto l'anno creiamo eventi a tema grazie a uno staffa di animatori professionali. Il camping Le Fonti ti aspetta a Cervarezza Terme. Amici, vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce, mare mare, stella del nord, un angelo nel blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie musica, musica e parole. Ultimissime novità, peccato mortale e ballando con Maio. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393 1912 091. Per la tua pubblicità nel Nemash Live contattaci al 393 1912 091. Eccomi è rientrato, non so se avete notato che è cambiato il numero di telefono e quello è l'altro, ne ho due, ma abbiamo avuto qualche problemino con la linea dell'altro numero, pertanto per qualche giorno ovviamente utilizzeremo questo. Se dovete mandare dei whatsapp o sms li mandate al 393 1912 091. Andiamo a salutare l'amica Roberta che si trova anche lei in Quei di Gatteo Mare. Buongiorno carissimo e meraviglioso Nicola, buon martedì, grazie per la stupenda musica, qui a Gatteo c'è ventilato e tanta animazione dappertutto, mancate voi che siete degli artisti super fantastici e unici, ti vogliamo bene Robby e Riccardo, grazie, grazie, tra poco ti dedico una nostra canzone. È arrivata proprio in questo momento la nostra Dora, eccomi Nicola, buongiorno a tutti, stamattina commissioni, arrivo ora, non lascio te e la tua musica se posso, grazie, grazie Dora, un'altra dedica anche per te, dai faccio io a mio piacere, tanto so che poi ci becco sempre. Intanto andiamo ad accontentare per la grigio con Marco e il clan Baci Ardenti, eccola qua. Una canzone che di solito non ascoltiamo e che è recente questa, è proprio una novità, infatti per la mia ringrazia. Andiamo subito a darvi l'appuntamento del nostro giovedì dove alla Corte dei Landi, all'agriturismo a Corte dei Landi, a Cadè, Reggio Emilia, via Castello 35, per il primo giro ballo al Chiaro Ordi Luna, giro pizza, dolce, acqua, vino e caffè, 25 euro, tutto compreso e non mancherà ovviamente la musica e i balli. Con Nicola Marchese e Monica e Maio a partire dalle ore 20, la cena alle ore 21, la musica e i balli. Prenotazione obbligatoria a Raffaello a 339 48 49 49 49 8, oppure Nicola al 393 19 12 091, oppure se andate direttamente sulla nostra pagina Facebook Orchestra Nicola Marchese trovate il post con i link dove cliccando aprirete una pagina, basta inserire nome, cognome e in quanti siete e automaticamente avete prenotato la vostra serata in prima fila. Mi raccomando, visto che Roberta e tutta la famiglia si trovano a Gatteo e Elvira si trova ancora a Gatteo, vi voglio dedicare questa canzone che avevo cantato alla chiusura del primo aperitivo proprio lì davanti al Metropole a Gatteo, i migliori anni della nostra e della vostra vita. Che bella emozione rivivere quei momenti e sentivo anche sotto la registrazione l'amico Daniel che mentre riprendeva canticchiava anche lui. Andiamo a leggere qualche messaggio, subito dopo un'altra canzone sempre dalla Palterre di Gatteo Mare, visto che eravamo in due, dove c'è anche, dobbiamo ascoltarci anche Monica. Mille grazie Nicola, ci azzecchi sempre, questa canzone come la canti tu mi emoziona tantissimo, grande Nicola, grazie Roberta. E poi c'è Perla, super Nicola, ma fai tacere, chi fa il video? Eh, ormai l'aveva fatto, disturbato la tua esibizione, scherzo ovviamente, non voglio offendere assolutamente, lui, il nostro Daniel era lì, ci faceva la ripresa, ma era talmente preso da questa canzone che la canticchiava anche lui, ma è bello così, dai. Ci andiamo ad ascoltare anche Monica? Sì, sempre da Gatteo Mare, Cosa ti aspetti? Da me. È la nostra cocò in versione Loredana Bertè. E su questo brano che ritorna Monica, che due tipi da spiaggia. Beh, insomma, dai, ci divertivamo, dai. C'è anche un messaggio di Danilo, dalla provincia di Macerata, che dice Buongiorno, sono Danilo Baldinelli, volevo solo dire che sono a un pranzo a Longiano, un saluto da Gianna, Gianna Tempo, Rosi e Marco Mariani. Oh, saluta i nostri amici e colleghi, caro Danilo. Se è il Danilo che a pranzo con Rosi e il maestro Mariani è perdonato. No, no, non è lui, era Daniel quello, è il figlio del nostro Maio che aveva fatto le riprese. Bene, grande voce la nostra fantastica Monica, da parte della nostra Roberta. Io vado a salutare in questo momento l'amica Fortuna, alla quale devo chiedere anche scusa perché ieri avevo letto il messaggio, mentre c'era collegato Paolo Montanari. Volevo leggerlo e poi mi è sfuggito. Buongiorno Nicola, sono arrivato adesso per stare un po' in tua compagnia. Buongiorno a tutti e buon ascolto. E infatti ieri aveva scritto, buongiorno Nicola, buon inizio settimana, te i tuoi ascoltatori, anche se è tardi, un saluto veloce, giusto per dire che ci sono. Buona giornata. Così le ho letti tutte e due, dai. Arriva per te questa canzone Fortuna, Romanzo d'amore, Orchesta Italiana Bagutti, canta Alex Villani. Dedicatissima all'amica Fortuna, ne approfitto per ricordarvi un appuntamento che non ci riguarda perché noi saremo in quei della Basilicata, ma ci tengo perché è un locale partner e vi voglio parlare del Rugantino. In modo particolare per giovedì 23 giugno perché si terrà la famosa tortellata di San Giovanni all'Arrugantino di Basilica Nova, via Giovanni Falcone, numero 2. Info prenotazione alla 0521 68 20 00. Tortelli a volontà, arrosto con patata e acqua e vino, 25 alla persona, musica con DJ. Pronotazione obbligatoria, ingresso riservato ai soci Arci. Mi raccomando, giovedì 23 giugno e ovviamente io sono in vacanza e saluto chi ci andrà, salutate mia sorella Stefania. Vado a dedicare la canzone anche all'amica Dora e arriva di Diego, arriva bella signora. Tutta per te cara Dora. Dedicatissima la nostra Dora che risponde e mi dice grazie Nicola, mille grazie Nicola per Zamboni, poi se mi fai anche la tua peccato mortale sono a posto per tutto il giorno. Tra poco ti accontento dopo la pubblicità. Prima ne ho un'altra da mettere su. È peccato mortale, mi piacerebbe sentirla perché mi piace molto. Luca, certo dai, così accontento sia da Dora che anche te caro Luca. Ciao Nicola, dopo aver pagato le tasse sono qui. Buona giornata a te, a tutti gli amici della musica. Sono un po' arrabbiato, ma pazienza, non so cosa chiedere. Fai tu, grazie. Allora io adesso ne ho trovata una che parla proprio di questo argomento delle tasse, caro Gianni, scritta dal mitico Mimmo Mirabelli. Lui fa parodie su tutte le situazioni, però è veramente una cosa triste perché alla fine dover pagare su tutto il lavoro che uno ha fatto durante la vita e deve pagare anche le tasse sulla pensione è veramente una cosa vergognosa. Come io continuo a dire che è una cosa vergognosa pagare un bollo auto perché ti sei comprata la macchina. Poi non mi vengono a dire che c'è la mafia in giro, ma questo è proprio un pizzo da pagare allo Stato e tra l'altro, è giusto che lo sappiate, cari amici, che il governo italiano viene multato dall'Unione Europea per questa situazione, però la multa è più bassa rispetto all'entrata che si continua ad andare avanti così. Vi sembra giusto? Pensateci alle urne ragazzi, pensateci perché alla fine, se ci andremo alle urne, dovremmo anche prima o poi cambiare il governo. Comunque andiamo avanti, si paga, si paga, canzone delle tasse, Mimmo Mirabelli, eccola qua. In viaggio con Nima ti porta in Basilicata dal 19 al 26 giugno presso i giardini d'Oriente Resort di Nova Siri, Matera. Viaggio in Pullman Gran Turismo, trattamento in pensione completa con bevante e pasti, serate danzanti con ospiti, 680 euro a persona, info e prenotazioni Agenzia Viaggi Portofranco 0522 90 20 54 90 20 19 oppure 0521 06 14 12. Ehi, non hai ancora prenotato? Il camping Le Fonti è situato nel cuore dell'Appennino Reggiano a mille metri sul livello del mare. È un'ottima base per escursionisti, oltre che un luogo di riposo sereno e tranquillo tra la natura incontaminata. Il campeggio gode di una vastissima area per camper e tende, oltre che tanti accoglienti bungalow. A vostra disposizione anche un centro benessere con idromassaggio, piscina, grotta del sale, con vero sale dell'Himalaya e bagno turco. Durante tutto l'anno creiamo eventi a tema grazie a uno staffa di animatori professionali. Il camping Le Fonti ti aspetta a Cervarezza Terme. Amici, vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce, mare mare, stella del nord, un angelo nel blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie musica, musica e parole. Ultimissime novità, peccato mortale e ballando con Maio. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393 1912 091. Per la tua pubblicità nel NEMASHO LIVE contattaci al 393 1912 091. Peccato mortale accontentati Luca e la nostra Dora e ho visto da qualche parte che si è collegato un attimo l'amica Ori e Sassi, grande fans di Roberta Cappelletti. Tra poco andiamo in onda anche con una canzone di Roberta, della regina di Romagna. Ma prima vi voglio ricordare l'appuntamento di venerdì. Dopo il giovedì alla Corte dei Landi ritorneremo alla Trattoria Dolce Vita di Cavriago, via Bassetta 11. Antipasto, caprese, prosciutto e melone, gramigna con salsiccia, porchetta con rucle e grana insalata, dolce della casa, acqua, vino e caffè, 25 euro. Spettacolo compreso a partire da questo venerdì, appunto, i venerdì danzanti con Nicola Marchese, Monica e Maio. Vi ricordo di prenotare, è rimasta la prenotazione entro il 31 maggio della vecchia slide, adesso la modificheremo. Anna al 335 77 93 011 oppure Nicola al 393 1912 091. Andate pure sulla pagina Facebook Nicola Marchese, trovate anche il link per prenotarvi direttamente con il nostro form. Saremo tecnologici ragazzi, dai, dai, mi raccomando così faremo un bel giovedì, un bel venerdì insieme per poi arrivare anche alla domenica, ma questo lo vediamo più tra poco. Oasi, la fisarmonica del nostro caro Maio, che giovedì tornerà con nei panni di maionese e i suoi piatti. In viaggio con Nima ti porta in Basilicata dal 19 al 26 giugno, presso i giardini d'Oriente Resort di Nova Siri, Matera. Viaggio in Pullman Gran Turismo, trattamento in pensione completa con bevante e pasti, serate danzanti con ospiti, 680 euro a persona. Info e prenotazioni, Agenzia Viaggi Porto Franco 052 90 20 54 90 20 19 Oppure 05 21 06 14 12 Ehi, non hai ancora prenotato? E la bottega di Roberta Cappelletti, nel frattempo vado a salutare l'amico Paolo Balestrieri, eccolo qua, ciao a tutti, un salutone, salutami anche Luca Canali, buona giornata da Romina Censi e buona musica, arrivo in ritardo ma ci sono e noi vi prendiamo quando riuscite, non è un problema, siamo qui. Allora Gianni Francia diceva prima, sarà un furto, non so, beh direi che alla fine anche che piace pagare le tasse, però le tasse giuste alla fine se tutte le pagassero i servizi sarebbero migliori, no ovviamente, è il problema che poi sono sempre i soliti a pagarli e i furbacchioni ne traggono beneficio. Fratellone, il nostro Luca, voglio dirti che sei una persona eccezionale e speciale, come te non c'è nessuno, come cantava Caterina Caselli, ricordati che ti voglio bene, sei un grande, sei davvero un fratellone che ti porto sempre nel mio cuore, grazie ad esistere. Luca, non ci stiamo lasciando, non ti preoccupare, ci vediamo giovedì, mamma mia come sei affettuoso, questo mi fa molto piacere, il grande Maio è sempre un piacere ascoltare, è la nostra fortuna che manda questo messaggio. Allora, andiamo ancora in musica? No, prima vi voglio ricordare l'appuntamento di domenica perché saremo in quei di Calerno, questo fine settimana abbiamo il triangolo delle Bermude praticamente, che è Cadè, Cavriago, Calerno, eccolo qua in sovraimpressione, la festa del PD di Calerno, presso il Parco Vernazza, sabato 11 giugno con lo spettacolo delle Drag Queen, il mio amico Aldo Piazza, ossia Ape Regina, domenica 12 giugno arriveremo noi, orchestra spettacolo Nicola Marchese, ovviamente in formazione trio Nicola, Monica e Maio, ma vi ricordo che non ci sarà la pista, sarà una serata d'ascolto e ovviamente magari qualche ballo di gruppo sull'erba si potrà ballare. Alla festa, tutte le sere, il ristorante con pesce e carne alla griglia, il chiosco con buona birra, mi raccomando, numerosi così ci divertiamo anche se non si balla, almeno però stiamo in compagnia. Dai, vi vogliamo lì da noi. Savot Kaseva, l'amico mitico, volevo dire, Renato Tavaroni, per voi. Cosa che dovrebbe riuscire, dovrebbe saltar fuori appunto in Russia e Ucraina, più in Ucraina direi. Andiamo avanti ragazzi, siamo tornati anche sulla diretta Facebook, direi di andare con questa canzone perché ieri sera mi sono imbattuto in una ripresa di Gatteo Mare e mi ha fatto molto piacere rivedere la mia amica Monica Riboli e proprio lì in Piazza della Libertà con la Moreno Conficconi ha cantato Dipendesse da me e noi ce l'andiamo ad ascoltare in questo bellissimo videoclip.